Però qui io, se trovo una dichiarazione anche del nostro governatore, diceva che avrebbe messo Rossi Accelera, facciamo noi, insomma, aveva detto che le risorse ce le avrebbe stanziare. Anche in mancanza di quelle del governo avrebbe fatto lui da ponte, diciamo, avrebbe portato lui risorsa per risolvere questi problemi. Caro Enrico Rossi, se ci sei, batti un colpo. La lettera del Comune di Arezzo, datata 17 dicembre, non è indirizzata a Babbo Natale, ma ai dirigenti della Regione Toscana per sollecitare l'operatività di un tavolo tecnico regionale, condizione indispensabile per definire i progetti e accedere ai finanziamenti statali, vista la dichiarazione di emergenza nazionale per portare a termine gli interventi di riduzione del rischio idraulico nel Comune di Arezzo. Dopo l'evento straordinario del 27 luglio, che si portò via anche una vita umana, il Comune mette nero su bianco gli interventi necessari affinché in presenza di un evento simile i danni possano essere di gran lunga minori. Quindi gli interventi sul reticolo principale, le casse di espansione sul Sellina, l'adeguamento della sezione idraulica e deviazione del torrente Valtina e poi gli interventi sul Vingone, oltre che l'adeguamento della capacità di smaltimento della rete fognaria sia in ambito urbano che nelle frazioni. Abbiamo fatto noi una lista, un elenco degli interventi, ma penso che sia comunque un elenco condiviso perché ormai i corsi d'acqua interessati sono quelli, Valtina, Sellina, Vingone, Fossatone, sono quelli i corsi d'acqua praticamente critici. L'abbiamo fatto senza ovviamente nessun tipo di iniziativa polemica, ma per stimolare anche la regione ovviamente a intraprendere poi tutto l'iter che in qualche modo gli viene assegnato e ha come competenza. Cioè quello comunque anche di definire gli interventi, progettarli, autorizzarli e poi vediamo se non si trovano le risorse a livello nazionale, a livello regionale, come ha detto il Sindaco, noi siamo disponibili a fare la nostra parte. C'è da fare però una netta distinzione tra gli interventi appunto per mitigare il rischio idraulico per i quali è assolutamente necessario l'intervento della regione toscana e quelli che invece sono previsti grazie ad un accordo tra il comune di Arezzo e Nuove Acque nella zona in particolar modo di Via Romana dove verrà installata anche un idrovora. Noi già abbiamo concordato con il gestore Nuove Acque, il cui rapporto è ottimo, collaborativo e che voglio qui ringraziare personalmente. C'è tutta una serie di interventi, piccoli interventi, ma interventi che potranno essere realizzati fin da subito per ridurre il rischio legato al sistema fognario di Via Romana. Interventi per circa 700 mila euro a cui si potrebbe aggiungere anche un nuovo collettore fognario in Via Romana ma quest'ultimo di competenza del comune di Arezzo. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il comitato di Via Romana. A questo punto chiederemo come abbiamo fatto con l'amministrazione comunale quali sono gli ulteriori passaggi che la regione deve fare, i tempi che pensa di impiegare in modo da poter seguire come era il nostro intento tutte le varie fasi per raggiungere l'obiettivo.